Non li sopporto proprio. Parlamo sempre di figli. Sono i nostri migliori amici. No, sono la versione anormale di quelli normali. Eri una persona allegra, a parte che eri una persona. Da quando sei diventata mamma non ti si può dire niente. Mamma mia, era il più bello tra noi. Guarda com'eri dopo. Un cesso, Carlo. Se c'è una giustizia arriverà un giorno in cui voi vi sveglierete e avrete dei figli. No. Ciao papà, ciao mamma. L'hai presa tu la mia felpa di Millie Bobby Brown? Oddio! Mia! Che è? Staccalo! Levala, mollala! Se fosse tutto un incubo... No. Oh, Max! Se la secondiamo, questa cosa sparirà. Staccalo, staccalo, bevati bambino! Mi chiamo Max! Che ci vuole fare i genitori? Gli dai da mangiare, li piazzi a scuola, gli tiri lì due vestiti. Ma come? Tu dici sempre che ci vuole dialogo. Come tra uno e due. Cioè noi dialoghiamo? Certo. Io e te. Li dobbiamo a... Amare. Che amare? Ammina! A secondare Giulia. Tira! No! No, ma mandaci anche due gemelli, eh? Marco, per cortesia, smettetevi. No, voglio i gemelli. Gemelli, uomo... Non volevo. Che cosa? Scusa. Che cosa? Grazie a tutti! Grazie a tutti.